allora amici ben trovati sul mio canale in cui parliamo di orchidee oggi parliamo di umidità perché stiamo andando su con le temperature sono rientrato adesso a casa sono le ore 14 e 26 del giorno 20 giugno eccolo qua giorno 20 giugno giusto sì 20 giugno abbiamo 27,1 gradi in realtà un po di temperatura me la dà le lampade e abbiamo 40 per cento di umidità è pochissimo perché le nostre orchidee al 40 per cento di umidità non possono andar bene in realtà le ho sempre fatte andar bene sono sempre sopravvissute però volevo fare un qualcosina di diverso ci abbiamo detto le 227 macerata segna 30 gradi io voglio fare semplicemente una prova con voi vedere se possiamo con quel aggeggio lassù con il telecomando impostato a 23 gradi premiamo on questo si accende voglio fare una prova con voi perché mettere un umidificatore è importante perché a 40 per cento di umidità non è possibile ho chiuso le finestre che prima erano aperte quindi tutta casa erano aperte le finestre ho chiuso le finestre ho spostato leggermente il termometro che era nascosto tra le piante il problema è l'umidità 40 per cento di umidità vedete che siamo arrivati anche a 20 per cento di umidità l'anno scorso io faccio questa semplice prova allora ho acceso l'aria condizionata tra un oretta io rifinisco di fare il video voglio vedere se abbassando la temperatura troviamo un aumento di umidità quindi mettere un umidificatore per me significa che devo completamente chiudere le finestre stare attappato in casa volevo lasciare le finestre aperte per dare più aria è vero che noi lavoriamo con i ventilatori però volevo cercare di vedere se senza umidificatore abbassando la temperatura mi si alza il valore dell'umidità vi lascio tra poco vi documento il tutto allora andiamo avanti con questa prova che sto facendo e siamo scesi di due gradi e mezzo da 27 1 siamo arrivati a 24 e mezzo siamo saliti del 3 per cento a 43 per cento di umidità siamo arrivati alle 3 48 quindi segniamo tutto questo percorso che stiamo facendo cellulare ha detto che si spegne siamo sempre il 20 giugno siamo sempre oggi alle 3 48 abbiamo guadagnato 3 per cento di umidità è troppo poco e siamo scesi due di due gradi e mezzo andiamo avanti con l'esperimento per vedere se riesco a fare a meno dell'umidificatore come ho fatto negli anni passati o se mi basta l'aria condizionata teniamo presente che l'aria condizionata asciuga un po l'umidità però per assurdo asciuga l'umidità però siamo scesi di qualche grado siamo saliti andiamo avanti con questo esperimento fino a questa sera voglio testardamente vedere se abbassando ancora la temperatura aumentiamo l'umidità allora a conclusione di questa prova che ho voluto fare nel video di oggi sono tre ore e mezza tre ore e mezza sempre di oggi 20 giugno che abbiamo tenuto accesa all'aria condizionata ecco qua il 20 giugno quindi siamo sempre nella stessa giornata di oggi e abbiamo passato di quasi 4 gradi la temperatura con l'aria condizionata e l'umidità purtroppo è vero che l'aria condizionata asciuga non abbiamo avuto un vantaggio assolutamente sull'umidità quindi se ci dobbiamo organizzare con gli umidificatori è importante poterlo fare perché abbassare la temperatura da 27 gradi virgola 1 a 23 e mezzo purtroppo siamo arrivati sempre con la stessa percentuale di umidità il che significa che quel poco di umidità in più che ci ha procurato l'abbassamento di quasi quattro gradi di temperatura però non corrisponde a un innalzamento dell'umidità quindi siamo sempre appunto e da capo quindi se avete l'aria condizionata accendetela però non vi aspettate questa era la prova che volevo fare nel video sarei stato ben felice di vedere che l'umidità saliva di conseguenza all'abbassamento della temperatura ma se nell'umidità l'ambiente non c'è l'umidità purtroppo non viene fuori da sola bene vi faccio vedere che comunque sia le piante ce la mettono tutta per questo è il bulbo fillum carunculatum queste sono delle ricrescite giusto che ho fatto un video ma vi faccio vedere anche qualcosa se no solamente la parte di numeri e di gradi e di percentuali di umidità le piante vanno lo stesso chiaramente una maggiore umidità contribuisce a mantenerle un pochino più fresche altrimenti dovremmo bagnare continuamente quindi valutate voi se nei vostri ambienti vale la pena fare delle modifiche comunque sia ecco all'interno dei vasi l'umidità c'è ma è l'umidità ambientale che potrebbe essere un pochino importante per dare un pochino più le piante che ne hanno bisogno soprattutto il bulbo fillum e soprattutto quello che riguarda le botaniche le falenopsis e botaniche dare un pochino più di umidità niente voluto fare una prova pensando che semplicemente facendo il gioco delle tre carte potesse convenire in qualche maniera ma se non c'è l'umidità al fine il risultato ho visto che l'umidità non c'è anche se abbassiamo le temperature bene spero di aver fatto un video teorico pratico per chi avesse il dubbio dell'umidità è importante fare questa considerazione perché andiamo incontro al caldo e quindi facciamo poi le nostre valutazioni a presto spero di essere stato istruttivo con questo video particolare